E' stato accolto da tifo e applausi, proprio come allo stadio. Un bomber grigio-rosso fra i banchi di scuola, ospite al liceo Vida di Cremona, questa mattina il capitano Daniel Ciofani. L'attaccante della cremonese, che quest'anno all'attivo ha già sette gol, ha partecipato in mattinata con Paolo Loda a un incontro con i ragazzi, che hanno potuto fargli domande sulla sua vita pubblica e privata. Ciofani ha parlato della sua esperienza a scuola, sono sempre stato un bravo studente, con ottimi voti, ma ero contento quando c'erano mattinate come questa e non si faceva lezione, ha scherzato. Assieme agli alunni del Vida, Ciofani ha ripercorso la sua giovinezza e riflettuto sulle vere lezioni, che arrivano anche facendo tesoro dagli errori accumulati. Grazie.